Ciao amici. Khan Yaman sorprende tutti, da Budapest all'Hondura su una nuova carriera? Nessun allarmismo. Khan Yaman non ha intenzione di cambiare carriera o di lasciare la recitazione come si legge su alcuni post social in queste ore. Il problema che attanaglia le fan è solo uno, Khan davvero vuole fare l'inviato dell'Isola dei famosi 2023? L'attore turco non si è ancora pronunciato in merito ma alcuni giornali italiani, come DiPiUTV, hanno parlato di una sua presenza nel cast dell'Isola dei famosi 2023 come inviato al posto di Alvin. Questo, almeno, è quello che vorrebbe, a quanto si legge, la produzione del programma. Ma Khan Yaman che dice? Per ora niente. Al posto sui, se cos' si può dire, ha parlato l'investigatore social Alessandro Rossica. Sul suo profilo Instagram Alessandro Rossica ha smentito categoricamente le indiscrezioni legate a Khan Yaman, lasciando intendere che il divo turco non sbarcherà in Honduras per fare l'inviato di Ilari Blasi. Ilari aspetta e spera, ha scritto Rossica sui social. Khan non viene nemmeno se gli dai mezzo milione, ha proseguito in queste ore. Niente da fare, quindi? Secondo Rossica Khan Yaman non andrà mai e poi mai all'isola e di questo le fan dell'attore turco sono molto contente perché quasi nessuna lo vuole vedere in questo ruolo e in un programma che a loro non piace. Staremo a vedere e attendiamo nuove conferme o smentite.